La parola quotidiana di Dio Questa volta Dio viene a compiere l'opera non in un corpo spirituale, ma in uno assai ordinario. Inoltre, non è soltanto il corpo della seconda incarnazione di Dio, ma anche il corpo attraverso cui Dio ritorna nella carne. È una carne assai ordinaria. Non puoi vedere nulla che lo distingua dagli altri, ma puoi guadagnare da Lui verità mai udite in precedenza. Questa carne insignificante è ciò che personifica tutte le parole di verità provenienti da Dio, che intraprende l'opera di Dio negli ultimi giorni e che esprime l'intera indole di Dio perché l'uomo comprenda. Non desideri intensamente vedere il Dio in cielo? Non desideri intensamente capire il Dio in cielo? Non desideri intensamente vedere la destinazione dell'umanità? Egli ti rivelerà tutti questi segreti che nessun uomo è mai stato in grado di rivelarti e ti dirà anche delle verità che tu non capisci. Egli è la tua porta verso il regno, la tua guida verso la nuova età. Una carne così ordinaria racchiude molti misteri insondabili. I suoi atti ti risulteranno imperscrutabili, ma il fine dell'intera opera da Lui compiuta è sufficiente a farti capire che Egli non è semplice carne, come credono gli uomini. Egli, infatti, rappresenta la volontà di Dio, nonché l'attenzione dimostrata da Dio verso l'umanità negli ultimi giorni. Anche se non puoi udire le Sue parole che sembrano scuotere i cieli e la terra, né vedere i Suoi occhi come fiamme di fuoco, e anche se non puoi ricevere la disciplina della Sua verga di ferro, puoi comunque udire dalle Sue parole che Dio è eroso e sapere che Dio mostra compassione per l'umanità. Puoi vedere l'indole giusta di Dio e la Sua sapienza e, inoltre, renderti conto della premura di Dio per l'intera umanità. L'opera di Dio negli ultimi giorni consiste nel consentire all'uomo di vedere il Dio in cielo che vive fra gli uomini in terra e permettere all'uomo di conoscere, obbedire, riverire e amare Dio. Ecco perché è ritornato nella carne per una seconda volta. Sebbene ciò che l'uomo vede oggi sia un Dio che è uguale all'uomo, un Dio con un naso e due occhi e un Dio poco degno di nota, alla fine Dio vi mostrerà che, se quest'uomo non esistesse, il cielo e la terra subirebbero una trasformazione spaventosa. Se quest'uomo non esistesse, il cielo si oscurerebbe, la terra precipiterebbe nel caos e l'intera umanità vivrebbe fra carestie e pestilenze. Vi mostrerà che, se Dio incarnato non venisse a salvarvi negli ultimi giorni, Dio avrebbe da tempo distrutto l'intera umanità nell'inferno. Se questa carne non esistesse, sareste per sempre arci peccatori e cadaveri. Dovreste sapere che, se questa carne non esistesse, l'intera umanità affronterebbe un'inevitabile calamità e troverebbe impossibile sfuggire a una punizione ancor più severa che Dio le infligge negli ultimi giorni. Se questa carne ordinaria non fosse nata, tutti voi sareste in una condizione in cui supplichereste per la vita senza poter vivere e preghereste per la morte senza poter morire. Se questa carne non esistesse, oggi non sareste in grado di guadagnare la verità e giungere davanti al trono di Dio. Sareste, invece, puniti da Dio per via dei vostri gravi peccati. Sapevate che, se non fosse per il ritorno di Dio nella carne, nessuno avrebbe possibilità di salvezza? E che, se non fosse per l'avvenuta di questa carne, Dio da tempo avrebbe posto fine alla vecchia età? Stando così le cose, potete ancora respingere la seconda incarnazione di Dio? Poiché potete trarre un così grande profitto da quest'uomo ordinario, perché non lo accettate di buon grado? L'opera di Dio negli ultimi giorni Consente all'uomo di vedere il Dio del cielo vivere in terra E lo è liberale Permette all'uomo di conoscerlo, di amarlo e venerarlo E lo è liberale Ecco perché si è incarnato ancora Ciò che l'uomo vede oggi è un Dio uguale a sé Con un naso e due occhi Un Dio umile Che ho dimostrato Che senza quest'uomo Il cielo e la terra Sarebbero stati Diversi Diversi Senza lui il cielo Sarebbe Offuscato La terra nel caos L'umanità Tra caesie Tra caesie E le pirelie Senza la salvezza di Dio L'uomo sarebbe un peccatore All'inferno All'inferno Sareste tutti Corpi Senza vita Alla fine Ogni nazione Adorerà E ringrazierà Questo uomo Irrilevante E lo sentirà Perché lui Allora La verità La vita Per salvare L'umanità Senza quest'uomo L'umanità affronterebbe Una catastrofe E non potrebbe Sfuggirebbe La punizione Più severa Di Dio Senza la nascita Di questo uomo Ordinario Tutti voi sareste In un limbo Tra la vita E la morte Senza l'esistenza Di quest'uomo Non sareste in grado Di aver verità E di giungere davanti a Dio Sareste puniti Per i vostri peccati Alla fine Ogni nazione Adorerà E ringrazierà Questo uomo Irrilevante E lo sentirà Perché lui Allora La verità La verità La dirà E salvare E salvare L'umanità Se Dio non fosse Tornargli la carne Nessuno avrebbe Nessuno avrebbe Possibilità Di salvezza Di salvezza E se non fosse E se non fosse Per l'avvento Di quest'uomo L'A화 L'era L'antica E l'anima L'antica Sarebbe Avete ottenuto questa buona sorte, grazie alla venuta di quest'uomo ordinario. Alla fine ogni nazione adorerà e ringrazierà questo uomo irrilevante e lo seguirà. Perché lui avverrà la verità, la vita e la via per salvare l'umanità. Lui riduce il conflitto tra Dio e l'uomo e avvicina maggiormente. Lui comunica pensieri tra Dio e l'uomo, è lui che ha portato maggiormente a Dio. Perché lui ha donato la verità, la vita e la via per salvare l'umanità. Non è forse degno di fiducia e orazione, non è forse adatto ad essere chiamato Cristo, espressione di Dio. Begna, non è forse lui che aiuta l'uomo a evitare ogni disastro. Begna, che è degno del tuo amore e di essere da te tenuto caro. Begna. 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 Begna.